Il Canada di Trudeau legalizza la cannabis. Si può fare. Noi chiediamo al PD e al segretario del PD Renzi che almeno in Italia si possa votare su un disegno di legge sottoscritto da 222 parlamentari. Abbiamo dalla nostra parte ormai i magistrati. Sappiamo che è un modo per togliere denaro alle mafie, controllare la sostanza e combattere il consumo dei minori.